Buongiorno a tutti, sono molto felice di portare il mio saluto alla prima edizione del Forum Risorsa Mare che è stato promosso dal Ministro Musumeci, che ringrazio e organizzato da The European House Ambrosetti. Saluto tutti i rappresentanti istituzionali, gli esponenti delle categorie produttive, gli operatori economici che interverranno nel corso di questo evento e che in queste due giorni contribueranno a rendere Trieste, città meravigliosa alla quale sono particolarmente legata, la capitale marittima italiana. Questo governo ha deciso di lavorare perché venisse finalmente riscoperta e valorizzata la dimensione marittima e la millenaria vocazione agli scambi commerciali della nostra nazione, mettendo fine al paradosso assurdo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, il paradosso di un'Italia che ha smarrito la propria identità. Noi siamo una razione di mare, una penisola al centro del Mediterraneo, un ponte naturale tra Europa e Africa, un crocevia tra quello che avviene tra due grandi spazi marittimi del globo, l'Atlantico e l'Indo-Pacifico. Siamo una piattaforma immersa in un mare di mezzo, tra Gibraltar e Suez, eppure abbiamo agito come se non fossimo eredi delle Repubbliche Marinare, come se non fossimo incorniciate da oltre 8 mila chilometri di coste. Ecco, noi abbiamo scelto di invertire la rotta, di guardare finalmente al mare come una risorsa che va valorizzata con una visione d'insieme. Per questo abbiamo istituito un ministero che si occupasse specificatamente di questo tema, creato una struttura di missione ad hoc, affidato al Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare il compito di tradurre quella visione in una strategia concreta. Il primo mattone di questa strategia è il piano del mare, approvato dal Comitato, che verrà presentato in queste due giorni a Trieste. Non spetta a me illustrarne i dettagli, sarà compito del ministro Musumeci, ma ci tengo a sottolineare il cambio di prospettiva. Per la prima volta il governo italiano ha messo intorno a un tavolo tutti gli attori pubblici che hanno competenza sul mare, ha fatto dialogare le filiere, ha raccolto le proposte delle imprese e ha varato un documento che si occupa di tutti gli aspetti che ruotano attorno alla risorsa mare, con obiettivi che sono ambiziosi. Penso all'obiettivo strategico di fare dell'Italia l'hub energetico d'Europa, penso al contributo decisivo che il mare può dare sul fronte della produzione di energia rinnovabile, penso alla maggiore centralità che il nostro sistema portuale e logistico può e deve assumere nei traffici marittimi europei e internazionali e alla necessità di sostenere la transizione energetica del trasporto marittimo. E a questo si aggiunge il lavoro che va fatto per rafforzare il primato italiano nella cantieristica e nell'industria armatoriale e la necessaria attenzione che dobbiamo mettere alle peculiarità di chi lavora nel settore marittimo, senza dimenticare ovviamente alcuni asset nazionali che danno un contributo insostituibile al nostro prodotto interno lordo, il turismo, la pesca, l'acquacoltura. Ma penso anche a una delle tante nuove sfide che ci attendono, e cioè la corsa al mondo subacqueo e alle risorse geologiche dei fondali, un dominio nuovo nel quale l'Italia intende giocare un ruolo di primo piano. Il nostro mare è molte cose, è identità, è cultura, è lavoro, è ricchezza. È la linea blu che disegna la fisionomia dell'Italia rendendola unica. È confine ma anche orizzonte. È protezione e sfida, stimolo continuo a spingerci oltre i nostri limiti. Spetta a noi, ora a raccogliere questa immensa eredità e portarla nel futuro, tracciando così nuove rotte per rendere l'Italia ancora protagonista. Grazie a tutti e buon lavoro.